Ci siamo rivolti a Parabolic perché avevamo la necessità di spiegare chi siamo, qual è il nostro lavoro e che cosa caratterizza e contraddistingue il nostro lavoro quotidiano, riuscire a esprimere ai nostri pazienti qual è la nostra filosofia. Abbiamo trovato una collaborazione costante nel nostro desiderio di esprimerci, di offrire ai nostri pazienti, ai nostri colleghi dei contenuti che fossero un valore aggiunto nel comunicare quello che è il nostro approccio alla chirurgia del ginocchio. Ci siamo rivolti a Parabolic perché ci sembrava naturale che dei professionisti si rivolgessero ad altri professionisti. Grazie.